Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi vediamo come si fa a trasferire un programma da un pc ad un altro. Questa è una procedura che si rivela molto utile per caso noi decidessimo di formattare il nostro computer e quindi avessimo bisogno di salvare i nostri programmi. Può capitare infatti che non disponiamo del disco di installazione di tali programmi e quindi ci ritroviamo con il problema di come poterli recuperare. Per fortuna esistono su internet degli strumenti che ci permettono di fare una copia completa dei nostri programmi. Dovete sapere infatti che non basta semplicemente fare il copia e il collo di questi programmi perché la maggior parte di essi per funzionare utilizzano files e chiami di sistema che si trovano in locazioni nascoste del nostro pc. Quindi per fare la copia completa di questi programmi ci si ammirà un software a posto. Detto questo passiamo alla pratica. Allora esistono diversi programmi adatti a questo scopo da quelli a pagamento utili per un utilizzo più professionale a quelli gratuiti adatti ad un utilizzo diciamo per lo più casalingo. In questo video vi farò vedere un esempio utilizzando un software gratuito che si chiama PickMeApp è una versione beta quindi non testata al 100% link in descrizione. Per voi vi consiglio caldamente di utilizzare un programma professionale ne ho visto uno buone dal costo contenuto che si chiama PC Mover Link anche in descrizione. Ok passiamo a vedere come scaricare e installare PickMeApp. Allora colleghiamoci al sito di PickMeApp clicchiamo su Download qui e quindi facciamo la registrazione inserendo un indirizzo email valido ed il nostro nome. Riceveremo un email dove ci saranno le credenziali per entrare nel sito e quindi scaricare il programma. Scaricato il programma avviate quindi l'installazione. Durante l'installazione potrebbero apparirvi delle finestre con dei disclaimer da accettare. Accettando questi disclaimer andrete ad installare ulteriori programmi. Questi sono i soliti programmi spazzatura ecco perché vi ho consigliato di utilizzare gli strumenti professionali. Avviato il programma vi comparirà un'interfaccia dove potrete selezionare i programmi da copiare. Questi si trovano nella sezione Qualified Application questa qui eccola quindi clicchiamo eccole qui. Ovviamente se sono programmi che occupano molto spazio vi servirà una chiavetta o un hard disk esterno capiente. Come prima cosa creiamo un nuovo profilo per decidere dove salvare i programmi quindi clicchiamo qui su quest'icona questa diamo un nome al nostro profilo per esempio prova 2 clicchiamo poi su Browse e selezioniamo il percorso di salvataggio nel mio caso la chiavetta USB diamo infine ok a questo punto possiamo selezionare i programmi da copiare quindi selezioniamone uno per esempio questo una volta selezionati per fare la copia clicchiamo qui su questa icona a copia ultimata verrà creato nel supporto di salvataggio un file del programma con estensione tap punto tap questo verrà utilizzato da pick me app per installare il programma sul computer è necessario infatti che pick me app sia presente sul computer dove vogliamo che venga installato il programma che abbiamo salvato quindi per installare il programma copiato carichiamo pick me app sul pc che ci interessa apriamolo creiamo un profilo selezionando poi il dispositivo sul quale è presente il programma che abbiamo salvato clicchiamo su questo profilo selezioniamo il programma e infine clicchiamo su install qui non me lo fa fare perché sicuramente lui rileva che questo programma è già presente sul computer bene è possibile inoltre creare anche un file eseguibile che penso ci permetterà di installare il programma copiato senza l'utilizzo di pick me app per fare ciò basta cliccare qui su questo pulsante save as ex salva come eseguibile basterà poi inserire la pennetta nel pc dove vogliamo fare l'installazione e avviare poi questo eseguibile ok ragazzi per oggi è tutto grazie per la visione se vi è piaciuto il video lasciate un like oppure commentate oppure iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ciao ciao